VIA! 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 Vai, giù le mani, pezzo di merda! Giù le mani! Non è di qui non ce l'ha più, questa è una compaziale simbolica, questa è una compaziale amministrativa, è casa nostra! Ora ora I Toti giud Neposino nel momento ai giudici, nessuna marca mataccida ma non ci manqu circa amante si! Ho tenuto da facoltanto, ho tenuto da obitare, non possiamo più perdere inseridio all'ordine, e intermo a uno dei morti, ripropando nella crucifixia abitativa, la critica non permette più alle famiglie di pagare una spiitz, di pagare un'eserte, Questa è la vergogna, è la giustizia per gli esti che noi compiamo, è il giusto che abbiamo compiuto oggi, è l'occupare quanto stabile, è giustizia, è la medicità, è oggi un palazzo morto, è la proprietà delle banche, degli inseguratori. Noi oggi smettichiamo il diritto per l'azzo, il diritto alla grada, un diritto per le istituzioni, non volerò, però forse a violare. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti